Amici di Quartia Parete, buonasera, sono qui al Teatro D'Ordinona, qui a Due Passi da Piazza Navona e sono qui per parlare di Anduma, questo spettacolo che sarà in scena da venerdì 13 e sabato 14 dalle ore 21 che vede come protagonista Luca Milesi di cui è anche regista e autore. Buonasera Luca. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, noi cominciamo oggi, è giovedì 13, quindi ho posti città, è giovedì 13. Non sapevo se potevo correggere, però vai a provare a dirlo per evitare piccole confusioni. Anduma, intanto partiamo dal titolo, perché è un... Anduma perché... Cos'è Evoca? Luca Sbrigati, è la prima scheggia di memoria che sale nella mia testa quando penso a mio padre, gli anni dell'infanzia, le gite al mare da soli, nell'attesa che mamma prendesse le ferie per raggiungerci. Luca andiamo, Luca Sbrigati, Luca Anduma. Ma perché Anduma papà? Perché quando c'era la guerra qualcuno ti dava la possibilità, nell'orrore di quella catastrofe, però di salvarti la pelle se avevi le gambe forti. In pratica... Di correre. Esatto. In pratica i piloti degli aerei inglesi nei suoi ricordi facevano tre giri con l'aereo, uno più basso dell'altro, in qualche modo per dare il tempo a chi non c'entrava con l'obiettivo di allontanarsi. Dopodiché ti dovevi fare il signo della croce. E lui quegli anni li ha vissuti nel nord, dove si diceva Anduma! E quindi Mauro andiamo, Mauro levati, Luca Anduma, Luca spostati. E questo nei suoi racconti, nei suoi ricordi era sempre molto presente. Però anche in termini, lui aveva la capacità come tutti i papà di rendere più roseo un racconto, anche se era un racconto di guerra, di morte, però riportava un po' lo spirito con cui le ha vissute in quegli anni. Però sempre una speranza. Esatto, sempre una speranza, sempre una possibilità, assolutamente sì. E questo Anduma quindi è rimasto nella testa e continua a bombardare nella testa. Esatto, sì. Io poi non mi sono permesso sin da subito dall'inizio della carriera di attore e poi di regista di scrivere anche, perché è una professione completamente diversa. Lo puoi fare, secondo me, quando hai non solo veramente il bisogno di farlo, ma quando qualcosa, tra virgolette, diciamo, nella tua mano si agita e fa muovere da sola la penna. È il momento in cui hai una storia da raccontare, ma una storia bella. Certo, che valga la pena raccontare. Che valga la pena raccontare e che ci permetta di poter chiedere a qualcuno, per favore, puoi pagare per ascoltarmi? Perché non è una cosa semplice, ci vuole la faccia per farlo. E all'inizio è bene che provi magari mettendoti al rischio da solo, se non voglio coinvolgere nessuno, la va o la spacca. E quindi il monologo. Però il monologo io lo rompo un po'. Nel senso che non mi piace fare un personaggio solo. Vuoi o non vuoi, quando hai a che fare con le schegge di memoria, devi fare più personaggi. Perché sei tuo padre, sei tuo figlio. Sei tua madre, sei gli amici di tuo fratello. E devi fare voci e corpi diversi. E queste schegge decidono loro quando è come saltare dal pavimento e devi essere pronto a raccoglierle. Bene, allora poi questo spettacolo è stato preceduto da altri due spettacoli. Uno era Zona Protetta nel 2008 che ha vinto un meglio spettacolo. Dico bene? Sì, sì. Allora quello è stato il mio debutto come regista al festival Si Pari di Occasione nella città di Moncalvo, in Piemonte. E un testo di Ernesto Cavaliero, un autore spagnolo, che parlava di mafia immobiliare. Quello fu il debutto come regista e andò straordinariamente bene, tant'è che lo spettacolo vinse il premio di miglior allestimento. Poi nel 2015, con Tribù di Duccio Camerini, partecipammo al festival del teatro di Casa Marciano, che raccoglieva l'eredità del festival nazionale del teatro Salvorandone. E lì i premi furono due alla regia, la giuria popolare e quella del tecnica, e un premio alla compagnia come migliore compagnia. Per cui, insomma, proviamo, vediamo, mettiamoci alla prova. Adesso sono un po' di anni che, diciamo, frequento il palcoscenico dal punto di vista... Quindi le sfide si alzano. Esatto. Sono vent'anni come attore e vediamo un po' che cosa succede a raccontare qualcosa di se stessi, ma con l'obiettivo di far identificare lo spettatore con quello che... Certo, certo. Anche perché comunque, voglio dire, evoca situazioni che ancora molta gente ricorda, no? Assolutamente sì. E questo, un blogger, mi fa sempre piacere ricordarlo, Danilo Ferrin, qualche mese fa, quando vide il primo appuntamento della trilogia, disse che suo padre e sua madre erano i miei. Cioè io non vedevo i suoi genitori, vedevo i miei. E questo è stato... Un specchio di una generazione, comunque. Sì, sì, la capacità di far identificare con una storia inventata o con una storia personale. Allora, vorrei solo chiudere con una piccola nota, e ho trovato molto bello quando mi è arrivata la nota, che questo spettacolo è dedicata alla memoria della grandissima Monica Brizzi, che tutti noi che lavoriamo in questo mondo ricordiamo con grande affetto, Luca, vero? Assolutamente, assolutamente. Allora, Teatro d'Ordinona, da questa sera, 13 a domani, 14 ore 21, a Duma, Luca, la strada in Lugna, con scritto, diretto e interpretato da Luca Milesi, che io ringrazio. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie, credi.